we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi e le novità devo dire che sono veramente tantissime a partire dalle 4 di pomeriggio di ieri sabato cominciano finalmente a vedersi i primi elementi dedicati alla season 4 di fortnite che abbiamo capito essere ovviamente a tema marvel nel video di oggi parleremo di tutto quello che c'è da sapere cercheremo di portarci avanti con le informazioni faremo delle supposizioni ma vedremo anche delle cose che non sono ancora state dette e che faranno parte della nuova season prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio il tweet che epic games che fortnite pubblica ieri nel pomeriggio the herald has found the island the prelude to war has begun experience part one in game now lo vediamo in realtà anche in italiano nella sezione delle notizie di fortnite la traduzione era la raldo ha trovato l'isola e per l'isola ovviamente si intende la nostra isola di fortnite il preludio alla guerra è cominciato fortnite season 4 come vedete ragazzi se non vado errato io non sono un appassionato proprio sfegatato degli avengers quindi molte cose le sto imparando in questi giorni questa questo dovrebbe essere thor quindi non accanetevi su di me se sto sbagliando ne impareremo ovviamente insieme quindi vuol dire che hanno scoperto l'isola e vogliono in qualche modo distruggerla tra l'altro ragazzi oramai lo sapete meglio di me ma se andiamo nella parte della prelobby dove ci sono tutti i personaggi aquaman e sione tanti altri troviamo finalmente il comic book andiamo a vedere insieme che cosa succede lo vediamo la in basso a destra basta semplicemente cliccarci sopra sarà interattivo fumetto ed eccolo qua ragazzi asgard città degli dei erano trascorse solo due settimane da quando thor principe di asgard e dio del tuoro porca vacca quant'è veloce rispetto a quanto lo stavo leggendo cos'è che ha fatto tor il dio del tuoro datemi un secondo che ho perso il thor thor dio del tono principe di asgard era stato incoronato re della città dorata al posto di suo padre quando galactus il divoratore di mondi si presentò al suo cospetto disperato sconfitto e in cerca di aiuto due settimane da re prima che galactus gli annunciasse l'arrivo dell'inverno nero la morte di ogni cosa e infatti vediamo ragazzi l'immagine come galactus cattivissimo con la mano protesa che gli dicesse di cinque pianeti speciali consumando i quali galactus avrebbe avuto la forza per sfingere l'inverno nero per impedire che la sua ombra inghiottisse l'intera realtà così due settimane dopo aver indossato la corona di suo padre ed essersi seduto sul trono thor ricevette un nuovo titolo e divenne che è diventato thor datemi un secondo thor me lo son perso che cosa è diventato e non lo sappiamo l'araldo del tuono e come vedete infatti ragazzi thor lo vediamo benissimo con il martellone e tutti i fulmini intorno questa è la prima pagina ma poi si dice insieme thor e galactus scopriranno uno dei cinque pianeti e dopo che thor portò via gli abitanti del pianeta grazie al bifrost il ponte dell'arcobaleno di asgard galactus consumò le energie del pianeta poi si rimesero in viaggio alla ricerca degli altri quindi ragazzi veramente una cosa molto molto interessante guardate quanto era grande galactus rispetto a thor ma poi in lontananza in un attimo una frazione di secondo apparve qualcos'altro molto oltre i confini di ciò che conosciamo lì il potere è infinito non posso resistere al suo richiamo se mi nutro di esso nulla potrà galactus no gli dice thor giustamente galactus invece ci si butta dentro a capofitto deve essere mio galactus se ne nutrirà dimentichi galan che abbiamo una missione da compiere continua a dirgli thor per cercare di fermarlo non c'è tempo devo avvertirli prima che lui arrivi devo e come vedete ragazzi si ferma qua quel squarcio azzurro di luce sembra palesemente uno dei rift che già siamo stati abituati a vedere e che tra l'altro possiamo vedere anche in questo in queste ore nel nostro fortnite lo vediamo là in alto lo ascoltiamo anche come vedete il classico sound del rift un rumore veramente incredibile che potrebbe essere la stessa cosa che abbiamo letto nel fumetto o che potrebbe magari essere l'apertura del bifrost quindi l'arrivo di questo ponte arcobaleno che collega i due mondi insomma ragazzi una cosa veramente veramente interessante da cercare di capire e piano piano in questi ultimi giorni ovviamente ne scopriremo altri io già vi posso anticipare che non sarà l'unico rift che troveremo nel cielo ma se ne aprirà un altro a questo punto immagino tra pochissimi giorni tra l'altro abbiamo anche finalmente l'immagine ufficiale della posizione dei bifrost ed eccola qua ragazzi come vedete le sei rune di cui abbiamo parlato ampiamente nei giorni precedenti si stamperanno letteralmente sul terreno tra la piccola agenzia qua siamo praticamente tra la casetta che c'è tra la mini agenzia e dalla parte di là c'è praticamente il ponte quello l'ex ponte gigante di legno avete capito ovviamente come vedete là in fondo sullo sfondo c'è pantano palpitante perché hanno deciso di mettere qua i sei rift le sei rune non ne abbiamo assolutamente idea e soprattutto perché sono sei le rune potrebbero stare ad indicare sei personaggi marvel che stanno per arrivare questa è l'ipotesi ovviamente più plausibile ma finché non ci saranno degli aggiornamenti non potremo sapere niente e andiamo avanti a parlare dell'ultimo credo argomento di oggi no è il penultimo arriva nuovamente un piccolo grande l'ex grotto is gonna be a battle pass skin quindi ragazzi per chi conosce grotto farà parte del battle pass grotto è un esserino anche lui fa parte dell'universo marvel e come vedete è molto simile ad un albero diciamo che sembra fatto di legno anche qua vedendolo così mi sembra uno abbastanza bravo nel senso non credo che dia abbastanza problemi al thor che se lo prende a martellate lo distrugge quindi grotto farà parte del pass battaglia e terminiamo invece con l'ultimo argomento di cui parliamo oggi ragazzi ed è il secondo teaser ufficiale quello che viene pubblicato ogni giorno oramai dall'altro ieri come vedete nuovamente la scritta fortnite con uno squarcio nel cielo e io sinceramente credo che quella figura lì sotto sia galattus quindi ragazzi la domanda che voglio farvi è adesso che stiamo scoprendo bene tutte queste cose dedicate a marvel voi ce l'avete la hype mi spiego meglio è giusto ieri mi avete risposto in tanti ma voglio ancora sentire le vostre risposte perché siete tantissimi quando mi commentate ho letto che molti sono a favore di una nuova season a tema marvel io personalmente dopo aver letto anche quello che ha detto donald sono molto convinto che non facciano perché porcherie quindi l'isola di fortnite potrebbe essere inserita in un contesto molto più grande che appunto in questo modo abbraccerebbe l'universo marvel e avrebbe un senso logico per quello che riguarda si distaccherebbe purtroppo dalla storyline principale si introdurrà una nuova storyline e spero davvero che il punto zero i visitatori e tutto quello che abbiamo visto non vadano nel dimenticatoio e magari passata questa season 4 possano tornare ad avere un ruolo abbastanza principale insomma ragazzi ho anche per oggi tutte le news ve le odep vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi i miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao quindi tu mi stai dicendo che adesso arriva tutto il discorso marvel non abbiamo ben capito in realtà il discorso del perché thor e gente varia abbia deciso di dar fastidio e venire quaron per le balle sulla mappa di fortnite quindi avremo 60 giorni di season con gente che si piglia a martellate sparano fulmini dal cielo e probabilmente fanno cose che non dovrebbero fare che cavolo c'entra che cavolo c'entra questo con tutta la storia dei visitatori se mi si allacciano con le porcate mi arrabbio mi arrabbio